ciao a tutti e benvenuti in domotics duino il mio canale youtube in cui parlo in maniera molto semplice di domotica e in particolare di openhab in questo video volevo riprendere il discorso dell'installazione e configurazione iniziale di openhab quindi ripartendo dal punto in cui eravamo arrivati nei video precedenti dove avevamo visto le installazioni nei vari sistemi operativi in particolare da questo video in poi utilizzerò l'immagine openhab installata sul raspberry perché ritengo essere il sistema operativo migliore per openhab in quanto già preconfigurato e ottimizzato proprio per l'esecuzione di openhab openhab ci mette a disposizione anche dei tool per permetterci la configurazione e l'ottimizzazione in maniera molto semplice quasi da interfaccia grafica perché da terminale comunque abbiamo a disposizione un menu in cui possiamo effettuare le varie scelte e ovviamente queste stesse configurazioni si possono fare anche su un sistema operativo linux debian sul quale si è installato openhab tramite pacchetti apt però diciamo che perdiamo un pochino la semplicità perché dobbiamo sapere e ricordarci quali sono i comandi che dobbiamo eseguire per effettuare determinate operazioni quindi è più un'attività da sistemista linux invece con openhab abbiamo a disposizione un menu in cui facciamo semplicemente delle scelte in questo video quindi voglio ripartire dai primi step di configurazione di openhab che ci porteranno poi all'esecuzione della vera e propria dashboard una volta effettuati questi step ci buttiamo sul raspberry utilizzeremo il tool openhabian config e andremo a effettuare delle configurazioni e ottimizzazioni iniziali per migliorare le prestazioni di openhab andremo a vedere quindi il menu di configurazione di openhabian config e cercheremo di capire cosa servono tutte le scelte che possiamo fare passiamo quindi alla schermata pc ed eccoci sulla pagina di prima configurazione di openhab per raggiungerla ricordatevi che bisogna mettere l'indirizzo ip del raspberry e la porta 8080 quindi 192 168 15 nel mio caso due punti 8080 e si arriva a questa pagina di appunto prima configurazione quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare l'utente amministratore che sarà l'amministratore appunto di sistema io come utente metto admin la password metto marco 1234 marco 1234 in modo tale che me la possa ricordare e creo l'account ok la seconda pagina di configurazione mi chiede semplicemente la lingua lasciamo italiano perché probabilmente l'ha identificata dal mio sistema la regione possiamo andare a mettere l'italia quindi più che la regione la nazione e il fuso orario europe rom l'ha già identificato facciamo inizio installazione ok possiamo impostare le coordinate geografiche della di casa praticamente quindi andiamo sulla mappa non c'è una ricerca purtroppo comunque vado qua ok e quindi lui mi recupera le coordinate geografiche che poi serviranno a openhab a capire dove siamo e quindi a impostare dei servizi eventualmente per esempio per il meteo eccetera eccetera imposta la posizione a questo punto in questa pagina dobbiamo decidere quali addon vogliamo installare se già sappiamo quali utilizziamo lui mi propone questi qua in automatico facciamo selezionare gli addon da installare così android debug bridge binding lo tolgo la basic qi la lascio che dovrebbe essere la sitemap il binding per il chromecast direi che non mi interessa il javascript scripting lo lascerei la persistenza rrd4j la lascerei perché serve comunque poi per gestire anche i grafici in openhab senza dover utilizzare obbligatoriamente un qualcosa di più complesso come influxdb il binding universal plug and play al momento non lo installo ma questo potrebbe servire per riconoscere dei dispositivi in maniera automatica all'interno della nostra rete e basta direi che lascio perdere così tanto man mano che poi ci serviranno degli addon li andremo ad installare quindi confermiamogli i tre addon adesso lui dovrà scaricarli e installarli deve fare quest'operazione perché in fase di installazione avevamo deciso di non riportare e scaricare quindi il file openhab addons che contiene un po tutti gli addons in questo modo lui tutte le volte che serve un nuovo addon lo deve scaricare ok abbiamo finito benvenuti in openhab ci viene detto quindi vuol dire che siamo arrivati al punto di lanciare la dashboard ecco qua la nostra dashboard è ovviamente vuota perché non abbiamo configurato nulla però diciamo che questo adesso il punto di partenza per configurare la nostra casa a questo punto questa parte la mettiamo un attimino in pausa e passiamo al raspberry in modo tale da lanciare openhabian config ed effettuare le relative ottimizzazioni e configurazioni da sistema operativo ci colleghiamo quindi al nostro raspberry sempre tramite ssh da prompt dos quindi ssh utente che è openhabian chiocciola l'indirizzo ip del raspberry la prima volta ci verrà chiesto di accettare la chiave del server noi la accettiamo e le prossime volte non dovrebbe più chiedercelo a questo punto mettiamo la password che di di default è openhab no openhabian ok scusate ma non me lo ricordo mai quindi utente openhabian password openhabian direi molto semplice ovviamente poi conviene cambiarla perché per questa insicurezza anche se il sistema gira in rete locale comunque è sempre meglio cambiarla che non si sa mai a questo punto siamo collegati al raspberry cosa dobbiamo fare dobbiamo lanciare col sudo come amministratore il comando openhabian config qui dobbiamo mettere la password di nuovo di openhabian che è sempre openhabian ed eccoci qua sul sul tool di configurazione questo è un messaggio che avvisa che verrà installato openhab 4 diciamo che per noi è un sistema nuovo quindi openhab 4 è il default però per chi magari arriva da openhab 3 potrebbe trovarsi appunto tramite tramite openhabian config questo messaggio che avvisa che se fa l'aggiornamento completo del sistema gli verrà installato openhab 4 quindi facciamo pure stop displaying così non ci appare più e siamo qua sul tool di configurazione ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale youtube nella playlist openhab in pillole quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti ok a parte la prima voce about openhab che ci dà informazioni su questo tool la prima voce di configurazione che troviamo è select branch select openhabian config tool version to run praticamente possiamo decidere che tipo di versione di questo tool vogliamo installare o aggiornare quindi se ci clicchiamo abbiamo la release la test che è l'ultima e la legacy che è utilizzata solo per l'openhab versione 2 io lascerei su release perché la latest praticamente installa l'ultimissima versione che è stata pushata sui repository git nel branch main che però è una versione beta normalmente quindi non è molto testata conviene sempre lasciare su release per avere l'ultima versione stabile quindi questa configurazione non la tocchiamo con esc si torna indietro seconda voce di menu che è quella che poi verrà utilizzata più spesso anche nell'ongoing dell'installazione di openhab è l'aggiornamento del sistema fondamentalmente questo comando lancia l'aggiornamento il classico update del sistema operativo quindi l'apt update e l'apt upgrade su tutto il sistema operativo includendo anche openhab questo vuol dire che se su openhab ci sono stati degli aggiornamenti di versione stable dico stable perché adesso il tool è configurato che installa l'openhab stable altrimenti si può e lo vediamo dopo definire che vogliamo installare le versioni milestone o le versioni snapshot cosa che però non è molto raccomandata comunque ne parliamo dopo quindi in questo momento con questo comando andiamo ad aggiornare tutto il sistema operativo quindi tutti i pacchetti di sistema operativo quindi comprendiamo tutti gli aggiornamenti di sicurezza dei vari servizi che abbiamo installato sul nostro sistema operativo compreso openhab quindi se è uscita una nuova versione stabile di openhab in questo modo lo andremo ad aggiornare adesso il sistema operativo è appena installato però è un'immagine potrebbe essere che dopo che è stata fatta l'immagine alcune versioni dei pacchetti siano state aggiornate quindi questo comando conviene comunque farlo io adesso lo lancio qua ci viene solo detto che appunto verranno aggiornati tutti i pacchetti software incluso anche openhab quindi bisogna stare attenti che potremmo passare da una versione a un'altra di openhab continuiamo e lasciamolo fare ha finito l'installazione ha fatto un bel po di aggiornamenti quindi adesso abbiamo il sistema totalmente aggiornato compresa la versione di openhab andiamo avanti con le voci di menu install openhab non fa nient'altro che appunto aggiornare o installare da zero nel caso non fosse più installata la versione di openhab l'ultima versione che trova disponibile sul repository su cui stiamo puntando poi abbiamo la import config che praticamente fa una sorta di restore di una configurazione di openhab però a differenza del restore classico che ha bisogno di trovare il pacchetto zip di un backup in una certa cartella noi con questa funzionalità possiamo scegliere un file all'interno del raspberry un file in una qualunque cartella ovviamente deve essere un file di backup valido oppure potremmo addirittura installarlo tramite rete utilizzando un url quindi magari ce l'abbiamo su un server per esempio sul cloud perché noi facciamo il backup lo mettiamo sul cloud di qua possiamo riconfigurare quindi questa installazione di openhab a partire da quel file di backup quindi se la utilizziamo ci viene detto di inserire il file col percorso completo all'interno del raspberry oppure un url http in questo caso torniamo indietro e passiamo poi alle varie proprie configurazioni e ottimizzazioni da sistema operativo quindi andiamo a vedere cosa ci offre la voce di menu 10 quindi vengono installati tutta una serie di pacchetti che sono necessari o raccomandati per l'installazione di openhab io questo consiglierei di farglielo fare perché ci installa tutta una serie di servizi che potrebbero tornarci utili nelle varie configurazioni di openhab anche in questo caso abbiamo finito ma ha fatto un po di installazioni e pulizia del sistema ritorniamo sul nostro menu 10 e andiamo avanti e abbiamo tutta una serie di settings customizzati per praticamente l'interfaccia da console quindi il bash che la console classica il prompt dei comandi del raspberry vim che è un editor di testo da linea di comando abbastanza complicato da utilizzare e nano che è sempre un editor di testo però un pochino più semplice ovviamente tutto da linea di comando perché non abbiamo installato l'interfaccia grafica facciamogli fare questa customizzazione poi torniamo al menu 10 system tweaks praticamente questo serve ad aggiornare i vari mount dell'installazione di openhab aggiungendo la slash srv nel senso che verrebbero montate tutte le cartelle di openhab all'interno della cartella srv per essere poi eventualmente condivisa e quindi avere a disposizione tutte le cartelle in un unico posto questo si può fare o non fare ma facciamolo pure ok completato anche questo torniamo sul menu 10 fix permission serve semplicemente a reimpostare i permessi del sistema operativo nelle varie cartelle di installazione di openhab nel nostro caso ovviamente abbiamo un'installazione appena fatta quindi i permessi dovrebbero essere a posto però possiamo anche rieseguirlo tanto male non fa torniamo sul menu 10 abbiamo firemotd che è un programma un servizio che fa sì che quando ci logghiamo sul raspberry ci viene detto se ci sono degli aggiornamenti da eseguire possiamo mandarlo in esecuzione ok terminato anche questo vi faccio solo vedere cosa intendo per firemotd quindi mi apro il mio prompt mi ricollego al raspberry con un'altra sessione e vedete questa sezione di riepilogo informazioni di sistema in cui ci sono appunto tutta una serie di statistiche del del sistema operativo e in più l'indicazione degli aggiornamenti da fare in questo caso 0 perché li abbiamo appena fatti ok possiamo uscire e torniamo al nostro menu torniamo al 10 e abbiamo a questo punto samba samba è un servizio importante in questo caso perché è il servizio che permette a delle cartelle linux di essere visibili ai pc windows sulla rete praticamente permette di creare delle share linux compatibili con il protocollo che utilizza windows appunto per accedere alle share di rete questo lo installiamo perché è molto comodo dal proprio pc windows accedere le cartelle di configurazione di openhab senza utilizzare il raspberry adesso l'ha installato vi faccio vedere cosa intendo se noi nella barra di ricerca di windows inseriamo doppio backslash l'indirizzo ip del raspberry ecco vedete otteniamo una serie di cartelle queste sono le cartelle che il raspberry ha deciso di condividere in rete questa openhab conf è importante perché è quella che ci permette di gestire i file di configurazione di openhab quindi noi di qua tramite il nostro pc windows possiamo tranquillamente modificare i file che sono sul raspberry bene direi che per questo video possiamo fermarci qua abbiamo ancora qualche voce di menu da vedere da esplodere perché all'interno ci sono una serie di sottomenù e magari lo vediamo nel prossimo video per non rendere questo video troppo lungo che magari potrebbe risultare anche un pochino troppo noioso e magari si fa fatica a seguirlo vi ringrazio per essere arrivati qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video ciao a tutti